Protenderci verso il futuro ci porta anche a interrogarci su quelle che possono essere le competenze, le professioni anche, perché è sicuramente un tema a cui dovremmo pensare che si apriranno domani, che saranno a disposizione domani e che quindi possono dare una chance in più ai nostri ragazzi di essere felici, di prosperare. E sicuramente ragionare sulla capacità di presentare dei contenuti in modo accattivante aiuta chiunque al giorno d'oggi, indipendentemente dalla professione che fa, praticamente a chiunque è richiesto di fare una presentazione, a titolo diverso magari, ma nel corso della propria vita professionale. Oggi lo faremo però con una chiave in più, non parleremo solo di una presentazione, ma anche di uno strumento per iniziare a capire già con gli studenti come funzionano i siti, perché volenti o nolenti sarà anche quella. E comunque tutti i lavori collegati alla creazione di siti saranno sicuramente produttivi nei prossimi anni. Questo sicuramente è uno strumento, sicuramente una chiave di lettura, ma può essere anche semplicemente una lenza, cioè coinvolgere gli strumenti attraverso un'attività appunto esperienziale, che è quella che ci piace. Per farlo abbiamo chiesto di essere con noi a Deborah Ruocco, che ci ha appunto proposto questo contenuto. Deborah è una dei formatori della squadra di Alessandro Bencivenni, che avete visto prima, quindi è un formatore Campus Store Academy per Google e G Suite for Education, quindi non mi resta che lasciarle la parola, visto che le sedi ci sono scattate, ma man mano che entrate non vi preoccupate. Deborah è qui ad accogliervi, quindi il palco virtuale a te Deborah, grazie. Grazie mille, benvenuti a tutti. Io spero che adesso di riuscire a condividere con voi la presentazione. Si vede perfettamente, vediamo sia te che la presentazione. Grazie mille. Allora, intanto iniziamo appunto con il titolo di questa attività, che è come creare con gli studenti un sito di classe facile e sicuro con Google Site. Quindi io mi sono interrogata, va bene, ho messo anche io appunto le slide relative a Campus Store Academy, che è appunto un ente formatore accreditato, di cui faccio parte con molta gioia, e faccio parte appunto della squadra Google Suite for Education. Quindi partiamo subito con Google Site. Io ho fatto un escursus, diciamo, della nostra esperienza, soprattutto della mia scuola, dove appunto ci siamo, diciamo, siamo cascati dalle nuvole, e come scuola dell'infanzia e primaria soprattutto, non avendo ancora dato gli account a tutti gli alunni, abbiamo dovuto trovare un modo per fare didattica a distanza a marzo, da marzo in poi. E allora abbiamo scoperto e approfondito la conoscenza di Google Site. E quindi vi faccio vedere rapidamente tre esempi pratici di come l'abbiamo usato nel passato, e poi andiamo a vedere come possiamo usarlo nel futuro e nel presente. Allora, il primo sito che vi faccio vedere, un attimino, che faccio qualche pasticcio, è quello della scuola dell'infanzia, della mia scuola dell'infanzia, dove lavoro io. Io sono alla scuola primaria e vi faccio vedere proprio l'anno scorso. Loro hanno creato questo sito ricco di contenuti, è andato ovviamente a formarsi con il tempo. Vi faccio vedere un esempio velocemente. La parte relativa ai video, relativa alle letture, le maestre hanno creato dei piccoli video con una lettura dei libri per l'infanzia, appunto, e l'hanno condiviso attraverso il sito, appunto, ai bambini. La cosa positiva, appunto, del sito è che in un unico link io posso condividere un sacco di contenuti. Quindi, il secondo esempio che vi mostro è quello relativo al sito, invece, della scuola primaria. Questo è l'esempio della mia classe, proprio perché comunque è la mia esperienza. Ecco, quindi qua abbiamo, prima, precedentemente a Classroom, abbiamo messo tutto anche il materiale relativo ai compiti, relativo alle video lezioni. Poi l'abbiamo utilizzato come contenitore per cose un pochino più ludiche. Per esempio, il discorso che tutte le domeniche noi facevamo una ricetta e quindi i bambini caricavano la loro ricetta, cioè la mandavano alla maestra e la maestra caricava la ricetta. Un altro esempio, l'ultimo, sempre relativo al passato, è quello, appunto, della mia collega Paola Paolino, che mi sembra che sia anche presente, che, appunto, ha creato questo sito per la lingua inglese, per la scuola secondaria di primo grado, proprio come contenitore di tutto il lavoro svolto. Quindi, per tutte le classi, nonostante loro utilizzassero Classroom, quindi non è che un'applicazione escluda l'altra, anzi, si integrano, e quindi lei ha raccolto tutto il materiale d'inglese, ma non solo per il lockdown. Lei, comunque, questo strumento lo utilizzava anche precedentemente. Andiamo a vedere cosa possiamo fare, invece, da oggi in poi, da ieri in poi. Google Site, appunto, nella nostra didattica. Quindi, alcuni esempi. Un esempio io ve lo faccio vedere, perché mi sembra che poi, vedendolo in pratica, uno, magari, a qualcuno di voi verrà in mente qualcosa, no? Qualche stimolo. Per esempio, questo è il calendario dell'Avvento di Gianni Rodari, dato che cade il centenario. Vi faccio vedere il giorno di oggi, ed ha un'idea, appunto, di un'associazione di letteratura per bambini. C'è, appunto, la pallina di oggi e la storia, la passeggiata di un distratto. Quindi, i bambini, accedendo in un unico link, che è quello del sito, che non cambia mai, quindi voi, una volta che avete caricato questo link, che ne so, sulla Classroom, piuttosto che in altri canali, i bambini possono accedere sempre dallo stesso link. Siete voi, docenti, in questo caso, che andate a modificare ogni giorno il sito. Quindi, il sito cambia, ma il link è sempre lo stesso. E questa è una cosa molto comoda. Un'altra idea che volevo darvi per il presente e per il futuro è il sito di classe, come, per esempio, il giornalino. Come si faceva il giornalino di classe, si può strutturare un sito dove i ragazzi formano la redazione, quindi ognuno può essere responsabile di un settore. Si può fare, a seconda dell'età, ovviamente, degli studenti. Si può fare in modo che i ragazzi, che ne so, raccolgano solo il materiale e poi l'insegnante carichi sul sito. Oppure, e questa è l'opzione che preferisco, rendere autonomi i ragazzi e quindi farli sperimentare gli strumenti, perché non succede niente, non si rompe niente, e vedrete com'è semplice e intuitivo, e quindi anche dividerli, per esempio, in piccoli gruppi, siccome ora fisicamente non possiamo farlo, e farli lavorare a distanza, non per forza in maniera sincrona, ma anche asincrona, con questo strumento versatile. Un'ultima idea può essere il sito personale dell'alunno e, riferito a questo sito personale dell'alunno, io andrei subito a sperimentare. Quindi, entrando dai nove pallini di Google, andiamo su Site, che è questo simbolo, adesso hanno messo il simbolo nuovo, che è viola, e invece che andare sul più e iniziare con un sito da niente, andiamo qua, nella parte in alto, ci sono tutta una serie di modelli, e noi scegliamo oggi Portfolio dello studente. Quindi, cliccando su Portfolio dello studente, aprirà appunto questo modello, che è proprio appena appena strutturato, dove appunto l'alunno può, qui andando a cliccare, modificare, mettere il proprio nome, ora io metto il mio per far prima, e come idea non è male, questa, nel senso che ognuno può mettere chi sono, quindi parla di te ai visitatori, e qua si può fare anche un'attività collegata al social emotional learning, cioè potete utilizzare un po' tutto quello che volete, e è interessante il discorso, che appunto qua, noi adesso abbiamo chi sono, e poi ha messo corsi e attività. Adesso andiamo per esempio in attività, ha messo il modello, ci presenta robotica, musica, e poi ci dà la possibilità di aggiungere altre due immagini e altre attività. Ognuno ovviamente poi se lo andrà a modificare come meglio crede. Ora, vediamo velocemente come fare. Andando sulla parte destra, diciamo, dello schermo, abbiamo appunto, inserisci, pagine e temi. Ora, i temi sono più che altro un discorso estetico, che ora io, magari all'ultimo, se abbiamo ancora un po' di tempo, vi faccio vedere, ma è molto intuitivo, quindi andate a provare, a scegliere, a vedere quello che più vi piace. Invece, iniziamo ad aggiungere una pagina, andando in basso sul più, e chiamiamo questa pagina, per esempio, creatività. Quindi qua il ragazzo, o la ragazza, potranno caricare, per esempio, qualche, i loro lavori, i loro disegni, le loro opere d'arte. Andiamo a cambiare l'immagine, perché di default mi ha dato l'immagine della pagina precedente. Quindi io vado su, selezione immagine, e invece che sceglierne una di queste, che le ho già guardate, e non mi convincono sulla creatività, entro in cerca, e scrivo proprio creatività, e vado praticamente a ricercare in Google. Ora, io ho fatto delle prove ieri, però oggi scelgo questa, cambio, perché ogni volta poi escono delle nuove immagini, quindi ho scelto questa immagine, posso lasciare la scritta, oppure toglierla, e poi, adesso in questo modello, abbiamo un piedipagine, che poi possiamo togliere, modificare, in questo caso, è il link all'email del ragazzo, quindi chi entra nel suo sito, può scrivergli un'email. E quindi adesso io sono in creatività, e vado su inserisci, inserisco per esempio un layout, vedete, il layout è molto comodo, perché va a, diciamo, impaginare bene il sito, quindi in questo caso, io voglio che loro appunto, mettano delle loro immagini, delle immagini, delle loro opere d'arte, quindi scelgo questo layout, a due immagini grandi, con il testo sotto. Dal più, posso scegliere, di caricare l'immagine, direttamente dal mio dispositivo, oppure selezionare un'immagine, tra quelle che ho salvate, da drive, quindi io consiglio sempre, quando si lavora, con questi strumenti, magari, di prepararsi già, il materiale utile, all'interno di una cartella, del nostro drive, perché così il lavoro, è più fluido, oppure posso anche mettere, un video di YouTube, come ho fatto, nell'esempio del sito, dell'avvento per esempio, oppure addirittura, mettere il calendario, relativo per esempio, alla mia classroom, ma in questo caso, non ci interessa, la mappa, anche non ci interessa, in questo momento, quindi andiamo a caricare, facciamo conto, un'immagine, e poi il ragazzo, darà il titolo, all'immagine, magari spiegherà, che cosa lo ha ispirato, a destra, sempre sotto il layout, abbiamo poi, tutte le possibilità, che ci dà site, e sono davvero tante, ora, io penso, che questo strumento, per quanto riguarda, anche la mia esperienza, la mia esperienza, di docente, non solo di formatore, vada conosciuto, usandolo, come quasi tutti gli strumenti, quindi, vi consiglio, di provare, di provare a vedere, perché magari, qualcuno di voi, ha già un'idea, che è possibile, trasportare all'interno, di un sito, quindi magari, voi avete, un sacco di idee, di contenuti, e vi manca, lo strumento, ecco, questo potrebbe essere, il vostro strumento, ora, vi faccio vedere, ancora magari, per questa cosa, che è importante, cioè, vedete, verso il basso, qui a destra, abbiamo, proprio documenti, presentazioni, fogli, moduli e grafici, proprio perché, adesso vi faccio, l'esempio di documenti, se io, clicco su documenti, mi si apre, l'area, relativa appunto, ai documenti di Google, del mio drive, quindi, andando, io posso, adesso, per esempio, mettiamo questo, inserisci, e io posso caricare, il mio documento, che rimarrà, caricato, in maniera, ben visibile, ok, poi, torniamo, un attimo, alla presentazione, quindi, appunto, questo, ecco, la cosa importante, che vi voglio far vedere, è questa, ve la faccio vedere, subito, il discorso, relativo, alla pubblicazione, allora, quando io, questo è un sito nuovo, vedete che c'è la scritta pubblica, perché non è ancora stato pubblicato, quindi, si può scegliere, io, di solito, procedo in questa maniera, pubblico il sito, dando il nome al sito, in questo caso, metto solo Deborah, potete, l'alunno, secondo me, può dare benissimo, il suo nome, adesso io Deborah, l'ho già usato, per le prove che ho fatto, in altri corsi, mettiamo il nome e cognome, ok, pubblico, questo è un nome, che quando vi dice, è già stato usato, vuol dire all'interno del vostro dominio, in questo caso, ora vado su questo omino in alto col più, dove c'è scritto, condividi con gli altri, allora, posso scegliere, di creare un sito, e renderlo privato, quindi, in questo caso, io l'ho pubblicato, esiste, ma è mio, e nessuno lo può vedere, ora voglio vedere, che possibilità ho, posso, vedete, sono andata appunto, su l'omino col più, vado su cambia, e posso appunto, fare delle scelte, qua in alto, bozza con limitazioni, io di solito, lo lascio con limitazioni, nel senso che, solo io posso vedere, le bozze, cioè, magari mi vado a modificare, il sito, ma non lo pubblico, e quello, è visibile solo a me, invece, per quanto riguarda, la pubblicazione, appunto, del sito, questo, in questa modalità, solo il mio istituto, può fruirne, può vederlo, altrimenti, posso mettere, ulteriori limitazioni, per esempio, se il sito del ragazzo, magari, voglio che rimanga, solo, visibile a lui, che può condividerlo, con me, magari, attraverso una lim, oppure pubblico, e noi scegliamo pubblico, in questo caso, rendendolo pubblico, vado su fine, e questo sito, qua adesso in alto, sulla sinistra, dell'omino col più, abbiamo copia link, del sito pubblicato, quindi, copiando questo link, noi abbiamo, il link relativo, appunto, al nostro sito, bene, adesso, volevo vedere, se c'erano delle domande, allora, allora, aspetta un secondo, Deborah, se vuoi ti assisto, grazie, sì, Ho delle slide, allora, come vi dicevo, negli incontri precedenti, per chi c'era, la registrazione, il materiale, saranno messi a disposizione, direttamente dalla fiera, a gennaio, quindi, non preoccupatevi, insomma, abbiamo questo accordo, vediamo se dall'altra parte, c'è qualcos'altro, ok, ha senso consigliarlo, per la tesina di terza media, al posto di presentazioni, può essere più comodo, da usare? Allora, sono scelte, secondo me, nel senso che gli strumenti di Google, sono, cioè, nel senso, sono molto, alcuni sono utilizzabili, in diverse modalità, cioè, secondo me, si può usare sia presentazioni, che site, secondo me, non è meglio, ma è utilizzabile, quindi, sicuramente, sì, si può usare, però, sono scelte che, appunto, il docenti, conoscendogli, gli strumenti, e provandoli, anche, magari, durante l'anno scolastico, poi, possono andare a valutare, quale è meglio, però, sì, secondo me, sì. Grazie Deborah, c'è appunto, ci sono poi, appunto, varie interazioni, su, che commentano, proprio questa cosa, alcuni dicono sì, alcuni, i miei studenti, li preferiscono, eccetera, Federico, invece, ci chiede, bisogna avere G Suite, per usufruire del servizio? Grazie mille. Sì, bisogna utilizzare, all'interno di G Suite, nel senso, si può anche, utilizzare, con, con un account Google, però, io, sinceramente, l'ho sempre usato, all'interno della G Suite, con la scuola, nel momento in cui, lo crei, all'interno della G Suite, diciamo, che è un ambiente più protetto, anche nel momento in cui, utilizzano, lo utilizzano i ragazzi, quindi, perché, in questi strumenti, li vedo sempre, comunque, dove i ragazzi, sono i protagonisti, gli studenti, nel senso, anche, alla scuola primaria, devono provare, a creare loro, il loro, faccio un esempio, adesso, in prima media, che quindi, comunque, sono ancora abbastanza piccoli, stanno provando, utilizzare Google Site, con l'insegnante di spagnolo, no? E, faccio un esempio, proprio reale, mia figlia, quindi, ce l'ho lì, la vedo, è esaltatissima, da questa, da questa, da questa applicazione, quindi, essendo molto intuitivo, come avete visto, no? È tutto molto semplice, poi si può provare, cancellare, e andare, appunto, a modificare tutto, ehm, loro, lo stanno già usando, i ragazzi, in maniera autonoma, poi, si può anche, rendere collaboratori, per esempio, sempre qui, possiamo rendere collaboratori, dei colleghi, oppure, per fare, per esempio, i piccoli gruppi, quindi, in questo caso, inserendo, eh, l'indirizzo mail, io, in questo caso, sono proprietario, facciamo conto che, eh, invito la mia collega, Melissa, e Melissa può essere editor, oppure visualizzare, visualizzatore degli elementi, degli elementi pubblicati, in questo caso, secondo me, quando si, eh, condivide attraverso questa modalità, bisogna renderli editor, altrimenti, possono comunque vedere il sito, come fruitori, in questo caso, adesso io, la invito, e lei, potrà, essere al mio pari, quindi può collaborare con me, possiamo, per esempio, metterci d'accordo, e creare, eh, una parte di cui si occuperà lei, una parte di cui mi occuperò io, allo stesso modo, lo possiamo fare con gli studenti, quindi, un gruppo di cinque studenti, quattro, io non esagererei con i numeri, magari prima si vedono, adesso, ragioniamo su MIT, adesso, però poi, in nella, nella scuola in presenza, fanno un lavoro di gruppo, con il dispositivo davanti, quindi col computer davanti, e possono, appunto, discutere, scegliere, fare delle scelte, è comunque un lavoro approfondito, è un lavoro che si può fare, sia con qualsiasi disciplina, dal mio punto di vista, ma anche come attività trasversali, tipo, appunto, come ho detto prima, il giornalino di classe, che mi piaceva come idea, però, eh, è molto soggettivo, ecco, i contenuti sono soggettivi, eh, potrei farvi vedere ancora una cosina, già che, perché avevo un po' il timore del tempo, corso un po', allora, quando io ho le pagine, andando sui tre puntini, io posso duplicarle, se magari devo fare una pagina molto simile, mi crea un doppione, poi vado a modificare, oppure posso aggiungere, una pagina secondaria, creando una pagina secondaria, che chiameremo X, si crea, appunto, nel mio menu, eh, praticamente, sotto alla pagina che ho scelto, dove è andata a finire, sotto arte, ok, dentro a corsi, c'erano matematica e arte, già fatti dal modello, sotto ad arte, sotto ad arte, abbiamo appunto questa pagina X, le pagine, tenendo premuto con il mouse, io le posso andare a spostare, anche così fisicamente, quindi, da questo punto di vista, adesso, questo è un modello di sito molto basico, però, è strutturato in maniera tale, questa applicazione, per cui si può fare anche, un lavoro molto più approfondito, con tante pagine, quindi, il, la cosa principale, è farsi venire una grande idea, quando avete una grande idea, come strumento, secondo me, è molto comodo, e vi garantisco, che, quando lo provano, anche gli studenti, appunto, sono poi, magari stimolati, no, a fare delle attività, per esempio, anche, ho visto un sito, sulla scrittura creativa, di classe, quindi, la classe, creava questi, magari, questi elaborati, poi andavano, a caricarli sul sito, magari, curando anche, un pochino, la grafica, perché, ovviamente, adesso, noi abbiamo fatto una cosa, con quello che avevamo, all'interno di Google Site, ma Google Site, è benissimo, si può benissimo, integrare, la grafica, per esempio, di altre applicazioni, tipo Canva, tante altre applicazioni, ecco, di grafica, ecco, è entrata, adesso, vedete, che già cosa Melissa, è entrata, quindi, la mia collega, entra, io vedo, come in tutti gli strumenti, di condivisione, non era preparata, questa cosa, una cosa indiretta, questa, appunto, come tutte le, come tutti i documenti, no, condivisi di Google, anche Site, io vedo, quando qualcuno, sta lavorando, insieme a me, e questo, anche per i ragazzi, è molto carino, come, grazie, ci è piaciuta molto, questa interazione, ti chiedo una cosa, Deborah, ci chiedono, è possibile vedere, anche la codifica HTML, del sito, probabilmente, qualche insegnante, di scuola secondaria, ci può stare. Allora, io, nel senso, non lo so, questa cosa specifica, non la so, so che, appunto, noi abbiamo la possibilità, di inserire, incorporare, appunto, all'interno del sito, sia, un, un indirizzo, URL, sia, un codice HTML, però, poi, il discorso relativo, cioè, noi l'abbiamo condiviso, e lo condividiamo sempre, attraverso il link, questo qui, che è un link, di Google Site, quindi, non lo abbiamo ancora, diciamo, integrato, al sito, per esempio, istituzionale, della scuola, però, so che c'è il modo, quindi, a tal proposito, grazie, grazie Deborah, poi, magari, se volete, approfondiamo questa cosa, magari, in un incontro ulteriore, con Deborah, a tal proposito, ci chiedono, eh, al di là dell'utilizzo, con il suo G-Site, si può usare, per creare un blog personale, in quel caso, che tipo di indirizzo avrà? Allora, eh, per il blog personale, eh, io preferisco blogger, nel senso, come, che è sempre all'interno, della G-Suite, ma, non è un componente aggiuntivo, mh, e quello, appunto, essendo personale, non ci sono grossi problemi, essendo anche fuori da G-Suite, il discorso legato alla G-Suite, adesso, è più che altro, appunto, perché noi vediamo, i ragazzi come protagonisti, quindi, in questo caso, è lo strumento, utilizzabile, eh, con meno problemi, anche legati alla privacy, perché è tutto all'interno, della suite. Eh, per quanto riguarda, il blog personale, io userai anche blogger, che è all'interno sempre di Google, ma, eh, non è, appunto, diciamo, eh, limitante, limitato, ecco. Invece, il, il sito di Google, sì, si può usare, e, però rimarrà, al, in questo caso, rimane all'interno del vostro dominio. Se invece lo create, da, dalla vostra Gmail, possiamo vedere un attimo, se volete, vediamo un attimo come, come, come appare. Allora, adesso vi faccio vedere. Allora, questa è una Gmail personale. Allora, vediamo subito, eh, perché io sinceramente non ho mai provato questa cosa. Google.sites. L'indirizzo digitato non è stato trovato, quindi, secondo, io ho questo dubbio, che, però anche questa cosa, magari l'approfondiamo, Lisa, perché, eh, quando ho creato il sito, quando il mio primo sito, diciamo, eh, era collegato alla G Suite, quindi, secondo me, è una cosa che, magari l'approfondiamo anche con Alessandro, però, io credo che sia un discorso proprio legato a, a Workspace. Ok, grazie. Comunque, sì, assolutamente, l'incontro di oggi voleva essere un avvio, una presentazione di quello che poi si può approfondire anche nei corsi un pochino più strutturati. Ti faccio l'ultima domanda, poi, ti chiederei di rispondere in un paio di minuti, perché poi dobbiamo chiudere, sei stata gentilissima, le domande, quindi, sono fioccate. È una domanda più trasversale, perché poi gli strumenti ci piace calarli nella praticità e nell'attualità. Ci chiedono, che tu sappia, quando faccio creare dei, cioè, in base alla tua esperienza, qua scusa, quando i ragazzi creano dei siti, poi magari li rendono pubblici, ci possono essere problemi di cyberbullismo? E se sì, come si possono affrontare? Allora, il sito non ha interazione, non è come il blog, dove appunto uno può scrivere dei commenti all'interno, oppure sotto un post. In questo caso, il sito è fruibile solo come visionatore, quindi io posso vederlo, posso navigarlo, però non ho la possibilità di scrivere nulla all'interno del sito. Il discorso di renderlo pubblico, se io non metto contenuti, diciamo, legati alla privacy, è possibile renderlo pubblico tranquillamente, però appunto non penso che, non essendoci interazione, non penso che ci sia appunto la possibilità di cyberbullismo, in questo caso. Bisogna essere programmatori per usufruire di questo servizio? Te lo faccio poi... No, perché si è capito che io non sono programmatrice. In realtà ti sei mossa molto bene, molto fluidamente, ti ringrazio. Sono arrivati un sacco di commenti positivi, quindi volevo dirtelo, perché è stata molto brava. Per chi sta chiedendo appunto la registrazione, ribadisco, vi arriverà a gennaio, verrà messa a disposizione direttamente dalla fiera, quindi non temete rispetto a questo. Deborah, io ti ringrazio veramente tanto, è stato un incontro bellissimo. Grazie a voi. Come vi dicevo, Deborah è un formatore appunto di... Anzi, una formatrice, ci tengo di Campus Store Academy, quindi se volete approfondire quanto avete visto, degli argomenti, fare un corso specifico con Deborah, potete chiederlo, perché una delle cose che permette di fare la piattaforma è anche selezionare il formatore. Deborah, ti ringrazio davvero tanto, e ringrazio anche Melissa a questo punto per la prontezza nell'interazione. È stato bello, sì. È stato molto carina. Grazie.